Il 6 di maggio mi sembra, c'è stato un gran corteo per le vie della città, un corteo magnifico con tutti i partigiani che sfilavano nelle loro formazioni, con le loro bandiere, perché poi le donne tra le altre cose che hanno fatto nei negozi non si trovava più né stoffa bianca né rossa e verde che sono i colori italiani, no? Perché le donne facevano bandiere, facevano cocarde, facevano bracciali e che tutti insieme sono venuti fuori i giorni della liberazione e c'è stato questo magnifico con tutta la folla, tutta la gente, nessuno più stava in casa, erano tutti per la strada a battere le mani, è stato molto bello.